Piccolo supplemento alla lezione precedente. Nello scorso capitolo abbiamo visto come poter lavorare ed organizzare il nostro materiale nel pannello progetto. Abbiamo visto come funziona la visualizzazione ad elenco e come funziona la visualizzazione ad icone dentro il pannello progetto di Adobe Premiere. Vi ho parlato della possibilità di creare delle cartelle che contengono al proprio interno i nostri oggetti multimediali raggruppati secondo determinati criteri che noi scegliamo. Abbiamo visto un po' come distinguere i file multimediali a colpo d'occhio. Abbiamo parlato un po' di teoria. Giustamente molti vogliono entrare un po' nel vivo. Non vi preoccupate perché nella prossima lezione creeremo una nuova timeline e cominceremo finalmente a montare. però voglio pubblicare questa lezione extra non prevista, devo essere sincero, perché voglio un po' farvi vedere come funziona un progetto molto complesso. Perché fino adesso abbiamo visto importati 5, 6, 7 file semplici semplici. Adesso voglio farvi vedere un po' come funziona un progetto molto più complicato. Da un po' di tempo mi sto occupando di un montaggio molto bello, di una trasmissione televisiva molto bella che ancora non è uscita e che quindi purtroppo non posso farvi vedere per ovvi motivi. Si chiama Anomalie l'Italia occulta. C'è il sito www.anomalie.italiaocculta.it se volete andare a buttare un occhio anche per vedere che cosa sta facendo questo pazzo che vi sta in qualche modo insegnando Premiere. Dicevo non posso farvi vedere nulla però senza farvi vedere le immagini, il logo ve lo posso farvi vedere, il titolo posso farvi vedere, il resto purtroppo no. Posso farvi vedere quella che sarà una timeline di lavoro in Adobe Premiere, una timeline molto complessa, neppure la più complessa di tutte. Questo è un po' quello che fa un montatore video, organizza questi, questi, come chiamarli, questi cubetti, questa sorta di caselline per creare sostanzialmente un racconto. Immaginate il caos nel poter scegliere quale video, quale clip giusta deve andare nell'esatto momento o in un determinato momento della storia. È complicatissimo, no? Allora io per poter lavorare in maniera agile e tranquilla ovviamente ho dovuto per forza organizzare il mio lavoro raggruppando tutto quanto in cartelle. Vedete che ho dedicato una cartella chiamata CC alla color correction, ho dedicato una cartella chiamata edizione alla lavorazione finale di tutto il progetto e poi c'è la cartella montaggio con all'interno una miriade di file e altre cartelle, sottocartelle. È il caos più totale, come potete vedere quando lavorerete con Premiere in maniera abbastanza spinta. Ecco, i file che dovrete avere a che fare non sono quattro o cinque, sono centinaia, centinaia, in alcuni casi migliaia di file perché un lavoro, un progetto può essere molto 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 complesso. Tutto questo perché? Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a farvi vedere innanzitutto alcune cose che non ho fatto vedere nella lezione precedente. Non tutti hanno gli occhi di falco e a volte può essere comodo ingrandire un pochettino la visualizzazione del nostro elenco per esempio. Allora una cosa che non vi ho detto è che in basso sulla sinistra c'è questa levetta che vi permette di ingrandire anche di molto le icone sicuramente per poter buttare un occhio in maniera un pochettino più 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 rapida a quello che è il contenuto, il contenuto delle nostre clip. Non vi ho detto per esempio che è possibile passare alla visualizzazione ad icona grazie a questo tasto in alto sulla sinistra sempre dove potete trovare questa spunta che mi dice che stiamo visualizzando sostanzialmente i file nella modalità ad elenco. c'è la modalità ad icona e se clicco la modalità ad icona mi ritrovo la visualizzazione sostanzialmente ad icone. Stessa cosa se vogliamo tornare indietro sempre sul nome del pannello c'è questo bottoncino e mi permette di tornare alla visualizzazione ad elenco con pochi click. ora questo è un pannello molto un pannello un progetto molto complesso dove ho dentro più progetti non voglio complicarvi ulteriormente la vita però per esempio una cosa che può essere sicuramente comoda ad un montatore è dover trovare al volo un file che ci interessa come facciamo è bel casino io devo trovare un file che mi interessa tra tutta questa giungla di clip importate e lavorate come fare vi ho parlato nella puntata precedente dell'importanza di avere i metadati ora questa non è una lezione dedicata ai metadati come ho già detto è un argomento complesso e sarà il caso di dedicare un corso proprio ai metadati ok per il montaggio però quello che sicuramente un montatore video deve sapere è che se ha una giungla di file come questi come questa e vuole trovare un file al volo se questi file sono stati nominati nella maniera corretta e non ve lo non vi insegnerò a farlo purtroppo in questa lezione c'è un modo una una funzione di premiere che ci permette di cercare ok al volo un file che ci interessa ora io non so sinceramente che tipo di file ho in questo progetto perché molto tempo che non lo apro quindi non ho veramente idea di quello che potrei trovare però se io vado a premere la combinazione di tasti ctrl f ctrl f mi compare questa piccola finestrella questa finestra non è altro che una semplice una semplice un semplice form con il quale premiere ci domanda e ci chiede che cosa stai cercando di preciso ok adesso io ingrandisco leggermente eccoci qua così che possiate vedere bene anche voi che state seguendo il corso questa finestra che compare sostanzialmente ci permette di cercare i file che noi vogliamo montare ok in base a determinati parametri ecco se voi cliccate sulla su diciamo su su la tab la tab colonna sulla linguetta colonna vedete che avete tante opzioni tra cui scegliere no nel caso specifico io voglio cercare tutte quelle clip che hanno nella descrizione questi sono tutte voci dei dei metadati ok quindi abbiamo il nome abbiamo i time code attacco video stacco video e noi vogliamo individuare tutte quelle clip che nella descrizione contengono la parola indagine ok indagini ok ignoriamo la seconda la seconda condizione perché noi potremmo utilizzare anche più condizioni ovviamente ora non entro nei dettagli e clicco su trova automaticamente premiere che cosa fa cerca tra tutti i file importati quelli contenenti nella descrizione la parola chiave indagine ora non so cosa ha trovato vediamo un attimino eccoli qua tutti questi file che vedete sono file che contengono nella parola nella colonna descrizione la parola indagine quindi io semplicemente riempendo quel quei campi posso in qualche modo cercare con un click ok tra le tante clip con cui sto lavorando quelle che mi interessano e che contengono il metadato si può dire metadato che noi comunque la caratteristica ecco il l'attributo che noi stiamo cercando forse un po complicato quello che sto dicendo specie a voi che siete magari all'inizio del corso di premiere magari più avanti dedicherò una lezione a diciamo proprio mirata ecco al lavoro di logging catalogazione e ricerca di materiale in un progetto complesso per il momento ecco leo ci tenevo a fare questa piccola lezione di supplemento per mostrarvi come tutto quello che stiamo imparando in queste lezioni iniziali del corso di premiere sembrano cose superflue no vi dico sempre siate ordinati ma è vabbè che palle però è no invece vi garantisco che quando vi troverete a lavorare a progetti articolati e complessi come può essere per esempio questo di anomalie l'italia occulta capirete di punto in bianco quanto è invece sia fondamentale organizzare il materiale in cartelle organizzare le cartelle in con sottocartelle diciamo schedare bene i file che state lavorando perché poi quando siete in produzione e dovete essere rapidi e precisi ecco avete avrete la possibilità se avete lavorato bene di avere tutto subito sotto sotto mano senza perdere ulteriore tempo vi ringrazio per l'attenzione nella prossima lezione finalmente creeremo una timeline da zero pulita inizieremo ad importare dentro la timeline il materiale cominceremo ad entrare nel vivo del corso di editing video con adobe premiere se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale cliccando sul tastino iscriviti qui sotto nel canale a fianco al video oppure venite a trovarmi sul sito internet www.fabiambrosi.it sul sito ci sono tutti gli articoli delle lezioni che stiamo trattando e anche qualcosina in più cercatemi anche su facebook c'è la mia pagina pubblica che è fabio ambrosi fatelo non per alimentare la mia megalomania ma semplicemente perché sulla pagina facebook magari ecco pubblico un po di annunci un po di notizie riguardanti sia il corso di montaggio magari sia adobe in generale perché no anche qualche iniziativa che magari può venirmi in mente durante 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 questo corso sarebbe bello fare delle video lezioni live qui su youtube magari lo faremo quando sarete un po di più magari ci organizzeremo per fare delle lezioncine di gruppo sarebbe bello così che se qualcuno delle domande può farle live nel frattempo se avete qualcosa da chiedere commentate questo video se potrò e se avrò modo vi risponderò sicuramente con molto piacere se qualcuno vuole integrare quello che sto dicendo può farlo commentando sempre ben accetto il contributo di chi vuole dare una mano per il momento vi ringrazio e ci vediamo ci ascoltiamo ci sentiamo se vorrete nella prossima lezione ciao